La Commissione Consiliare Ambiente e Sanità di Gela intende approfondire la vicenda e valutare le reali intenzioni della direzione strategica al fine di poter contribuire con ogni mezzo affinché ciò non avvenga. Riteniamo che un comprensorio come quello di Gela non possa perdere le parti che si sono distinti in passato per l'alto profilo, sia in termini di casistica di profitto per professionalità, rappresentando un fiore all'occhiello della sanità locale. Gela e i cittadini non possono continuare a vedersi sottrarre importanti servizi senza una giustificata o quantomeno chiara motivazione. Lo dice il Presidente della Commissione, il Consigliere Virginia Farruggia, che ha partecipato al sit-in organizzato dal sindacato infermieristico Nursind e dalle associazioni che operano all'interno della struttura ospedaliera per accendere riflettori su un altro potenziale furto reso ai servizi sanitari locali in danno dei cittadini gelesi. La Commissione Ambiente e Sanità aveva incontrato a Caltanissetta la direzione strategica il 21 luglio scorso per discutere tra gli altri delle criticità del reparto di malattie infettive. E in quella sede, dice Farruggia, abbiamo appreso del disagio relativo al reparto per la carenza di organico e della volontà della direzione di sfruttare il momento critico per la mancanza del personale, nonché i mesi estivi, per effettuare il trasferimento dello stesso dal quarto piano al primo, che attualmente ospita il reparto di UTIC, provvisto di scarichi indipendenti così da garantire una corretta esplodazione dell'assistenza ai cittadini. Dopo però abbiamo saputo della volontà di chiudere il reparto. Come Commissione Ambiente e Sanità, Rimarca Farruggia, abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito al fatto che sia stato solo un momentaneo spostamento di reparto per far sì che i malati potessero ricevere più assistenza, vista l'inadeguatezza dello stesso, nonché per sopperire alla carenza di personale medico, ma rimaniamo ugualmente guardinghi e aspettiamo soluzioni più adeguate. Avendo appreso inoltre dello sblocco dei concorsi alla regione siciliana, speriamo di poter valorizzare tutti i reparti e non solo quello di malattie infettive, attraverso la presenza di professionalità che oggi si sentirebbero mortificate da contratti precari e infrastrutture carenti. Ad oggi però rileviamo l'assenza di notizie circa il trasferimento dei due reparti in questione. Inoltre ci chiediamo come sia possibile, attraverso la mobilità interna, far prestare servizio a Mazzarino ai nostri anestesisti e invece chiudere un reparto così importante a Gela, pur avendo quattro medici infettivologi a Caltanissetta che potrebbero sopperire ai disagi che attraversa il reparto per la carenza di organico. La Commissione inoltre si dice dispiaciuta per non avere visto ieri nessun rappresentante dall'amministrazione presente alla sitina per manifestare il dissenso per i potenziali scenari dopo soprattutto avere fatto una guerra senza criteri che aveva tutte le caratteristiche di un conflitto politico legato alla persona piuttosto che un'azione volta al miglioramento della sanità locale. Siamo certi, chiude la nota, che la direzione strategica attiverà ogni possibile soluzione per scongiurare la chiusura del reparto di malattie infettive e continuerà a lavorare nella direzione giusta per garantire servizi sanitari efficienti ed eccellenza al nostro territorio in attesa da troppo tempo. La Commissione, i sindacati e le associazioni lavoreranno in sinergia per dare un contributo fattivo come è stato fino ad oggi alla direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. Grazie. Grazie. Grazie.